Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è tornato a parlare della questione ospedale di Agropoli. Il primo cittadino è riuscito finalmente ad avere un confronto con Mario Iervolino, direttore generale dell'Asla Salerno, a cui ha chiesto risposte per la struttura agropolese. Mi sono sentito con Iervolino, dichiara Coppola. Abbiamo condiviso l'ottimo risultato raggiunto tecnologicamente e strutturalmente. Ha dichiarato che la programmazione Covid in provincia di Salerno è stata programmata per step, quindi tutte le strutture saranno utilizzate in base all'avanzamento dell'infezione. Si va in base alla necessità, ma io ho ribadito il concetto di poterlo già aprire. Dopo le delucidazioni avute da Iervolino riguardo il Covid Hospital, Adamo Coppola ha richiesto delle risposte per l'attività ordinaria dell'ospedale, che deve essere implementata con interventi di grande necessità. Siamo tornati a discutere sui servizi sospesi ad Agropoli, ovvero il pronto soccorso ed il reparto di medicina. Ho chiesto risposte immediate riguardo al servizio H12 del pronto soccorso, che è inaccettabile di mantenere l'impegno di implementare quello H24, conclude il sindaco, ma anche sul proseguire l'implementazione di altre attività e reparti non presenti nell'ospedale agropolese.